Ciao, io sono Daria Huber, sono una cantatrice e produttrice musicale emergente e indipendente e questo è Spazio Daria. Innanzitutto volevo ringraziarvi perché sono molto molto contenta della risposta che c'è stata attorno all'episodio scorso, in cui abbiamo parlato di industria musicale, della mia esperienza nel settore. Sono particolarmente felice perché ho avuto un riscontro da parte vostra. Mi sono arrivati tantissimi messaggi di ogni tipo, alcuni di persone che hanno condiviso la loro esperienza, altri diciamo che hanno generato un po' più di confronto e sono davvero felice perché, come ho detto già nel trailer, per me l'obiettivo principale di questo podcast è proprio conoscerci meglio e interagire soprattutto. Quindi quando mi scrivete e mi raccontate le vostre esperienze o esprimete semplicemente un pensiero su quello che dico, sono estremamente felice. Vi ricordo per chi volesse farlo che potete scrivermi all'indirizzo email box.spaziodaria.gmail.com dove potete mandare sia lettere che audio, o sul box che trovate su Spotify, o nei commenti di YouTube, o anche sul mio profilo Instagram che è Daria A Uber. Trovate comunque tutto in descrizione. L'episodio di oggi parte con una frase, che è una frase di una canzone della rappresentante di lista, cioè Amare. Una canzone che a me è sempre piaciuta molto, mi ha sempre trasmesso molto, e che mi sono ritrovata ad ascoltare l'altro giorno, per puro caso, mettendo lo shuffle. E riascoltandola, mi è rimasta impressa la frase Vorrei essere tutto, potrei essere niente, che è appunto il titolo di questo episodio. Questa frase, diciamo, che mi ha un po' portato a fare un viaggio emotivo, letteralmente mi sembra di essere stata su delle montagne russe, una mezza crisi esistenziale quasi, perché credo mi rispecchi davvero molto. Per chi non lo sapesse, io sono una persona super determinata, a livelli estremi, e che delle volte si carica di molto di più di quello che può fare, perché è convinta di poterlo fare. Non so se qualcuno qui si ritrova in quello che sto dicendo, ma basta pensare al mio progetto musicale. Io mi occupo praticamente del 80% di quello che viene fatto attorno al mio progetto musicale, e delle volte mi trovo ad imparare delle cose che di solito non sono di competenza dell'artista, perché credo di poterle fare con il giusto impegno. Ad esempio mi sono trovata in questi mesi a dover imparare ad usare Photoshop per fare le copertine delle canzoni. Non pensavo fosse possibile, però me la cavo abbastanza bene adesso, e ho questa convinzione che posso fare di tutto se ci metto il giusto impegno. Quindi credo che la frase vorrei essere tutto sia perfettamente in linea con la persona che sono, un po' come in realtà lo è anche la frase potrei essere niente, che racconta un pochino l'altro lato della medaglia, perché comunque sono una persona piena di insicurezze. Basta pensare che delle volte quando registro gli episodi di questo podcast o anche altri contenuti mi ritrovo a ripetere la stessa frase 30 volte nel tentativo di dirla esattamente come la voglio dire, cosa che non va esattamente bene, però sono super paranoica, super perfezionista, e al tempo stesso mi rendo conto che posso metterci tutto l'impegno del mondo a fare le cose, ma non è detto che queste cose si realizzeranno. Quindi c'è quel lato un po' più pessimista di me, che in realtà è anche il lato che mi porta a scrivere le canzoni migliori delle volte, che per fortuna nella vita di tutti i giorni viene controbilanciato da questa determinazione e dall'idea di poter essere tutto comunque, no? Quindi credo che questa frase sia un riassunto esatto della persona che sono, e credo che in realtà sia anche molto universale, perché io in questa frase ci ho letto questa cosa, tante altre persone possono leggerci altri mille significati, secondo me. Infatti volevo chiedervi di raccontarmi un pochino cosa ci vedete in questa frase, come vi fa sentire e cosa rappresenta per voi. Ed è la domanda che troverete anche nel box di Spotify oggi. Come dicevo prima, questa frase mi ha portato ad affrontare un viaggio emotivo, una crisi esistenziale, mi ha messo su delle montagne russe, mi ha fatto un attimo combattere con tutti i miei sentimenti e tutte le mie sensazioni ed emozioni. E la cosa interessante che ho notato facendo questo viaggio emotivo è che in un certo senso ho dovuto digerire la frase. Cosa voglio dire con questo? Ho affrontato tre momenti diversi in cui provavo tre sensazioni diverse, anche abbastanza contrastanti tra di loro, e questa cosa mi succede raramente con le canzoni, perché di solito comunque tendo ad associare una cosa alle canzoni, un'emozione, una sensazione, che poi magari col tempo può mutare ma a distanza di anni, e non avere la necessità di andare oltre. Invece con questa frase nello specifico mi sono trovata proprio a ragionare, e a pensare tanto, e appunto a sentire più cose contemporaneamente, che è una cosa bellissima. Quindi volevo parlarvi un pochino di tutte le sensazioni che ho attraversato. La prima è stata sicuramente la paura. Questa diciamo è un po' quella più ovvia, e questo perché credo che tutti noi delle volte ci rendiamo conto di essere un po' impotenti davanti a determinate cose. Passiamo tanto tempo a cercare di realizzare delle cose, che possono essere studio, lavoro, vita, obiettivi personali, però delle volte ci sono delle circostanze molto più grandi di noi, e che non possiamo controllare, prevedere, prevenire, o anche pianificare. E questa cosa fa veramente paura. L'unico problema di questa paura è che molto spesso ci spinge a non agire proprio, ci spinge a restare nella nostra comfort zone, e a pensare appunto che non ci sia un motivo per provare effettivamente a fare le cose, affidandosi alle probabilità. Se c'è effettivamente una probabilità di non riuscire, non vale la pena farlo. E questa è una cosa ovviamente sbagliatissima, ma è un meccanismo in cui delle volte mi trovo a cadere, è un meccanismo che delle volte influenza le persone che ho intorno, e mi rendo conto che non è una cosa semplice da combattere, perché comunque è molto più complesso di quello che pensiamo. Si innesca una paura che proprio ti congela, e ti porta a non credere che le cose siano possibili. Quando in realtà spesso questa paura non è neanche causata da delle cose tangibili, da dei fatti provati, reali, ma in realtà è una paura di quello che potrebbe succedere. E quando ci ragiono razionalmente mi fa ridere, perché penso sempre, ma perché ci mettiamo noi stessi questi limiti delle volte? Però poi capisco anche che quando ci si trova nella situazione, è impossibile rendersi conto di quello che si sta facendo mentre lo si sta facendo. La seconda parte di questo viaggio emotivo è stata caratterizzata dalla consapevolezza. Dopo la paura, dopo il terrore di fare le cose, e dopo il terrore del pensare che potrebbe non accadere mai nulla di quello che speriamo, arriva questa sorta di pace interiore, quando si prende consapevolezza della cosa. La consapevolezza secondo me è una cosa bellissima, è una cosa importante anche, che spesso sottovalutiamo. E proprio questa consapevolezza ci consente di realizzare che le cose, sì, delle volte sono al di fuori del nostro controllo, ma va bene così. Una volta scrissi su un quaderno, che non ho qui con me quindi non vi posso leggere, però scrissi una cosa che mi porto dentro, e cioè che siamo protagonisti di quello che facciamo, come lo sono anche le circostanze e le cose che accadono intorno a noi. Perché in realtà tutto quello che accade è spesso una reazione. E la consapevolezza di avere il controllo fino a un certo punto, e poi di dover lasciare andare, ci rende liberi, in realtà. È una cosa che fa paura, anche questa, perché soprattutto per i maniaci del controllo, come me anche in primis, non è facile lasciare andare le cose. Però c'è una grossa pace nel pensare che non tutto è nel nostro controllo, e che sì, dobbiamo fare del nostro meglio per realizzare delle cose, ma quello che deve accadere poi accadrà. Ad esempio, io sto lavorando alla mia musica, e ci sto mettendo tutto l'impegno di questo mondo. Però non posso pianificare, o comunque architettare, un contenuto che farà andare virale la mia canzone. Non posso pianificare come far diventare qualcuno amante della mia musica. Non posso controllare nulla. Posso solo fare del mio meglio, far uscire la mia musica, fare del mio meglio per farla arrivare, farla ascoltare da quante più persone possibili. Però non posso fare nient'altro. La cosa esce fuori dal mio controllo, e devo lasciare che sia così. Quindi è importante prendere consapevolezza del fatto che, sì, potremmo non essere nulla, nonostante questo non sia il nostro desiderio. Come dicevo un po' nell'altro episodio, noi non dobbiamo fare le cose solo per riuscire ad arrivare ad una destinazione. E dobbiamo fare le cose perché ci piace il viaggio. La consapevolezza in un certo senso disittisce quella parte paranoica del cervello che ci fa credere di dover per forza avere il controllo subito di quello che sta accadendo. E fa ridere perché dette da me queste cose delle volte sembrano assurde, perché sono una persona che cerca di pianificare tutto. Delle volte io mi sveglio la mattina e voglio pianificare come riuscire a fare una determinata cosa quando in realtà non c'è alcun modo di pianificarla. E poi appunto quando mi ci fermo a pensare mi rendo conto che non posso e che devo lasciarla andare e lasciarla anche un po' al caso. Anche perché che sfizio c'è a controllare tutto? La vita è molto bella anche per tutti i suoi imprevisti e tutte le sue sorprese. Quindi è importante concedersi di ricevere delle sorprese delle volte. La terza e ultima meta di questo viaggio emotivo è stata caratterizzata dalla speranza e anche un po' dalla gratitudine in realtà. La gratitudine è lì perché nella frase c'è scritto potrei essere niente ma appunto c'è scritto potrei non sarò niente. Io delle volte mi fermo a pensare al fatto che sono fortunatissima ad avere delle opportunità nella vita. Anche semplicemente le opportunità di svolgere le azioni più semplici perché tante persone non hanno queste opportunità. Io addirittura ho l'opportunità di lavorare su me stessa e realizzare i miei sogni e di essere qui oggi con un microfono, con un computer e poter parlare delle persone. Molte persone non hanno accesso a queste cose e lo vediamo tutti i giorni anche quando vogliamo far finta di dimenticarcene. Quindi sono grata di avere quello che ho e sono fortunata ad avere quello che ho e ogni tanto è importante ricordarselo. E la speranza è lì un po' per lo stesso motivo e cioè che c'è scritto potrei. Significa che comunque c'è una possibilità di realizzare quello che vogliamo realizzare. Nulla per me è impossibile. Questa cosa sembra un po' una frase Tumblr del 2012 però secondo me quando qualcuno dice che è una cosa impossibile semplicemente non ha pensato abbastanza a come realizzarla. Poi la speranza è un po' quello che ci manda avanti, no? Perché proprio nella frase vorrei essere tutto potrei essere niente si capisce che nonostante la consapevolezza e nonostante la paura di non riuscire a fare le cose la speranza ci manda avanti. La speranza di poter fare quello che vogliamo fare ci manda avanti nella vita e ci spinge a fare tutto il lavoro perché c'è quella parte di noi che ci crede. E per chi lo fa a lungo termine c'è quella parte di noi che ama fare questo viaggio. La cosa più interessante di cui mi sono resa conto facendo questo viaggio emotivo è che in realtà non si tratta di un viaggio fatto una tantum ma si tratta in realtà di un cerchio una rotonda attorno a cui viaggiamo costantemente e che si ripete e ci consente ogni volta di imparare qualcosa in più. Ci fa vivere ogni volta delle fasi diverse e ci fa imparare qualcosa da ognuna di queste fasi. Ogni fase a modo suo è importante. Ci sono delle parti più belle e delle parti più brutte. Ad esempio a me piacerebbe vivere per sempre in questa sensazione di gratitudine ma mi rendo conto che questa cosa non è possibile perché troppo di una cosa fa male. È una frase presa da uno dei miei film preferiti che è The Karate Kid la leggenda continua grande film che vi consiglio se non l'avete mai visto ma non so su che pianeta vivete se non l'avete mai visto. Non si può vivere costantemente in una fase è importante viversi tutte le fasi così da poterne apprezzare le varie sfaccettature. Io non so se questo episodio in sé lascerà qualcosa nel cuore di qualcuno non so se quello che ho detto ha un senso logico non so se mi sono dilungata abbastanza o se mi sono dilungata troppo su alcune cose più di altre però mi sento un po' più leggera e credo che questa cosa sia positiva. Sento di aver raccontato un'altra parte di me e sento anche di aver appreso una lezione da quella che era semplicemente una canzone il che ci fa capire che l'arte è un mezzo importante. Io sono molto felice di aver parlato di questo argomento oggi e la canzone che appunto mi sento di consigliare oggi mi sembra ovvio è Amare della rappresentante di lista. C'è molto da leggere in questa canzone secondo me e mi farebbe piacere proprio sapere la vostra opinione sia su questa frase appunto che ha dato il titolo all'episodio sia sulla canzone in generale che cosa ci leggete voi come la prendete se vi piace o non vi piace a me fa piacere sempre scambiare opinioni e magari anche se avete delle canzoni da consigliare o anche canzoni che magari vorreste dessero il titolo a un episodio futuro vi ricordo nuovamente che potete scrivere tutto di tutto all'indirizzo email box punto spazio daria chiacciolagmail punto com o nel box che trovate su spotify o nei commenti di youtube o sul mio instagram che è daria a uber trovate tutto in descrizione comunque io vi ringrazio tantissimo per aver ascoltato questo episodio di spazio daria e ci vediamo presto